Il top bar è un sistema orizzontale a sezione trapezoidale con una serie di barre superiori appoggiate sulla cassa. Quando si inizia con 10-20.000 api si comincia generalmente con 10 barre. Dopodiché, finita le 10 barre, si usa mettere un separatore come questo. Qui abbiamo fatto un buco in modo tale che le api possano andare a mangiare, perché nel vano in cui le api non costruiscono posizioniamo il nutritore.